Denis Galiberda, grazie anche al tuo apporto, alla tua riuscita a portare a casa Gara 1, una semifinale iniziata con tutte le migliori premesse, gara difficile, gara combattuta, grande spettacolo. Sì, se guardo i giocatori di Modena è una squadra, loro hanno, penso, tanti giocatori hanno vinto medagli all'impiede, medagli all'impiede, per questo. Anche se è una squadra come Modena non giochi sempre bene, ma la possibilità sempre c'è. E loro, visto questo oggi, in battuta, in cappè, hanno giocato molto bene. E se una squadra giochi molto bene, anche non è facile a casa sempre giocare al massimo livello. Se vinci le partite così, quando tutti i giocatori non giocano al massimo, sta in una squadra veramente forte e vediamo, dobbiamo allenare un po', ma possiamo stare felicissimi. Ora c'è già la Champions, mercoledì arriva il Belkato, una volta partita difficile. Eh sì, per me è sempre importante ogni partita, per questo. Tu giochi oggi e domani mattina si inizia la preparazione per Belkatov. Abbiamo giocato bene con Belkatov, non è un ottimo livello, ma io penso che abbiamo la qualità e possiamo anche giocare un po' meglio, ma è importante vincere. Sì, sì.